A questo punto della stagione vincere è ancora più importante, soprattutto nel campionato di palla a volo maschile, che arriva nella sua fase cruciale. La Sirseft ha iniziato bene l'avventura playoff, battendo Cisterna in casa in gara 1. Una vittoria sofferta, forse più del previsto, anche se qualche calo di tensione forse era prevedibile. E domani sera si replica ancora al Palabarton, questa volta per la semifinale di andata di Champions League, di fronte la corazzata di Trento, già battuta però in questa stagione dei Block Devils. Tra i protagonisti ci sarà soprattutto Vilfredo Leon, che domenica contro Cisterna ha indossato una fascia da capitano con i colori dell'Ucraina. In questi tipi di momenti non si è una partita facile, allora mi aspetto una partita abbastanza lunga e combattiva. Quello lo devo dire, combattiva del nostro lato, anche del lato dell'oro e niente. Noi andremo avanti, credo che siamo in condizione per dare il nostro meglio mercoledì e tenere questa vittoria di Guagas.